Il comune di Laureana di Borrello, insieme a tante altre cittadine della Piana, come Gioia Tauro o Rizziconi, sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa e in alcuni di questi enti è stato prorogato il commissariamento prefettizio, Gioia Tauro e Laureana, mentre Rizziconi andrà al voto il 21 ottobre. Nel caso di Laureana di Borrello, Consiglio Comunare sciolto in seguito all'inchiesta denominata Lex dalla DDA Regina, che andrà alle urne in primavera, sono uscite in gazzetta ufficiale le motivazioni della concessione della proroga di sei mesi alla Commissione straordinaria e di quanto è stato fatto fino adesso per la cittadina pianigiana. Laureana di Borrello è un comune profondamente minato dalla criminalità organizzata, dove i clan Ferrantino, Kindamo e i rivali Lamari controllavano tutto in modo certosino, meticoloso, tanto da far dire al procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria, Gaetano Paci, che è espressione plastica di quello che è l'andrangheta in tutta Italia, politica, economia, gestione amministrativa. In Paese, afferma il magistrato, si muovevano solo secondo le regole dell'andrangheta. Il procuratore aggiunto aveva parlato di forme medievali nella gestione del territorio e della cosa pubblica, in questo caso l'ente amministrativo. Ora la Commissione straordinaria ha tentato in questi 18 mesi di rimuovere tutti questi ostacoli e ripulire le maglie dell'amministrazione allontanando queste logiche. La Commissione, si legge nella proposta del Ministero dell'Interno, ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza delle consorterie criminali. Quelli della Prefettura di Reggio Calabria sostengono e ci tengono a dire che l'attività della Commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del Comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.